In fila da questa mattina per il vaccino anche all'Aquila nei centri di Viaficare e Bazzano le persone dai 79 anni in giù che si sono prenotate con la nuova piattaforma di poste ma non solo, scegliendo hub e indicazione dell'orario. Questa settimana sarà riservata alle persone dai 79 ai 75 anni. A fare il punto è il dottor Domenico Pompei che in qualche modo spegne e risponde anche alle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi sul rallentamento delle vaccinazioni a caso della mancanza di dosi. La campagna di vaccinazione sta andando bene, tranne stamattina come vedete c'è un pochino di assembramento ma questo è legato al fatto che oggi è entrato in funzione il sistema di prenotazione post che ha il piccolo difetto di prenotare nella fascia oraria di un'ora diverse persone. Siccome gli utenti arrivano in anticipo magari accompagnati e quant'altro e quindi si crea un assembramento speriamo di poter far organizzare gli appuntamenti in maniera diversa dal sistema post in maniera da evitare questa problematica. Per quanto riguarda il discorso dei giorni scorsi dell'ipotesi di rallentamento delle vaccinazioni è stato semplicemente un rallentamento, non abbiamo mai smesso di somministrare vaccini. Perché? Perché dando seguito all'input che ci veniva dalla regione o anche dallo Stato di aumentare e incrementare le vaccinazioni noi abbiamo incrementato confidando appunto nelle scorte che ci dicevano arriveranno, arriveranno. Noi nella fascia 75-79 abbiamo riservato per ogni giornata 1240 posti su tutta la provincia, quindi questo è il numero. A questo si aggiungono chiaramente le prime somministrazioni e i richiami che facciamo agli ultraottantenni e alle categorie fragili. La nuova ordinanza regionale intanto ha ridotto da oggi i comuni in zona rossa che passano da 41 a 26 ma la maggior parte continua ad essere nella provincia dell'Aquila. A Villa Sant'Angelo ad esempio ieri c'è stato un nuovo screening di massa disposto dal sindaco Domenico Nardis, è la terza iniziativa di prevenzione in questo senso e su 213 tamponi effettuati non c'è stato nessun positivo. Il sindaco aveva raccomandato la partecipazione più ampia ma effettivamente i numeri hanno un po' deluso. Ad oggi nel comune di Villa ci sono 11 positivi, a Barisciano si registra un più uno, i positivi salgono a 33, a San Demetrio sono una trentina. Rimangono in rosso Barisciano, Ocre, Sant'Eusagno, Villa Sant'Angelo, San Demetrio, Prata d'Anzidonia, San Pio, Caporciano e Navelli, mentre esce ad esempio Poggio Picenze che da oggi è tornato arancione. La provincia dell'Aquila resta osservata speciale negli ultimi giorni sull'Aquila città, si è registrata una flessione di casi, questo fa beh sperare ma non abbassare la guardia. Grazie.